Oggi valorizzare i dati all'interno delle aziende non è soltanto un aspetto tecnologico ma diventa un elemento di business perché soltanto valorizzando i dati all'interno della nostra piattaforma delle nostre piattaforme char riusciamo a capire fenomeni riusciamo comprendere l'andamento dei fenomeni riusciamo a capire in che modo anche in maniera predittiva fare interventi nell'ottica di valorizzare e rendere più felice le nostre persone all'interno dell'azienda e quindi di rendere più produttive le persone all'interno dei contesti aziendali e rendere più produttive le persone significa ovviamente incidere in maniera significativa sul business dell'azienda.